Vittorio Sgarbi è stato operato questa mattina all'ospedale di Cattolica, sulla riviera Romagnola. A praticare l'intervento l'equip medica di chirurgia della spalla diretta dal dottor Giuseppe Porcellini. Si era reso necessario un intervento di chirurgia di rimozione placca e revisione di sintesi di una complacca e viti e innesto di osso autologo. A confermare la notizia è stato l'ufficio stampa del diretto interessato. L'intervento alla spalla su Sgarbi è perfettamente riuscito e il noto critico d'arte dovrebbe essere dimesso a breve, già nel corso dei prossimi giorni. A confermarlo i medici che hanno praticato l'operazione e che adesso lo stanno monitorando. L'intervento è riuscito e il professore Sgarbi dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Si tratta del secondo intervento chirurgico per Sgarbi nel corso degli ultimi anni. Nel 2015 il noto critico d'arte fu operato al cuore a Modena. Fu lui stesso, attraverso un video postato in internet, a dichiarare di essersela vista brutta.